Ben ritrovati a voi tutti, nuova edizione del nostro giornale. Prime battute questa mattina in corte d'assisi ad Alessandria del processo a carico di una giovane tortonese imputata di terrorismo. L'udienza si è limitata a una serie di eccezioni procedurali. Detenuta da oltre un anno alle vallette di Torino, nega l'accusa, la difende l'avvocato Lorenzo Repetti. Ma ci racconta tutto Emma Camagna. Infagottata in un cappottone marrone, il viso pulito da ragazzina per bene, Laura Bombonati, la tortonese 27enne di Garbagna, imputata di associazione con finalità al terrorismo, è comparsa stamane davanti alla corte d'assisi ad Alessandria, presieduta dalla dottoressa Stefania Vietti, per rispondere di quella pesante accusa. Lei la respinge con decisione. Non le è stato concesso di essere giudicata con rito abbreviato, così da ottenere in caso di condanna la riduzione di un terzo della pena. È difesa da Lorenzo Repetti, pubblico ministero, il dottore Arnaldi della D.A. di Torino. L'imputata è giunta dal capoluogo piemontese, nelle cui carceri è detenuta da fine giugno 2017. Il dibattimento si è chiuso abbastanza rapidamente, perché l'udienza si è incentrata solo sui preliminari. Si entrerà nel vivo nella prossima. Si deve provvedere a traduzione di atti scritti in lingua araba, alla trascrizione di intercettazioni telefoniche e altro. La giovane tortonese, che convertitasi alla radicalizzazione islamica, aveva assunto il nome di Kadia, è nata e cresciuta a Garbagna, diplomandosi a Tortona. Tramiti social aveva conosciuto un giovane siciliano e, stando all'accusa, insieme avevano compiuto la scelta della sciata. Lei per un po' di tempo era stata notata in paese con indosso il velo. Poi entrambi non erano più stati visti in giro. Infatti erano finiti in Siria e Turchia frequentando persone legate all'ISIS. E il marito è morto come combattente. Lei avrebbe fatto attivamente la staffetta tra terroristi. Espulsa dalla Turchia, aveva trovato ospitalità a Tortona dalla sorella, ignara della sua vita segreta, intenzionato a partire quanto prima per il Belgio, dove avrebbe trovato i contatti per tornare in Turchia. Ma a fine giugno 2017 è stata arrestata dalla Digos di Alessandria e da allora è detenuta alle vallette di Torino. Cambiamo argomento. C'è molta attesa per l'incontro a Palazzo Chigi, dove tra poco attorno a un tavolo si insiederanno il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il vice premier Luigi Di Maio e i fratelli Toxos, proprietari della Pernigotti di Novi Ligure. I due turchi, il governo chiederà l'introduzione per i lavoratori, della cassa integrazione per ristrutturazione, ma soprattutto verrà ribadito che sia la produzione che il marchio devono rimanere a Novi Ligure. De De Vinci ha incontrato il sindaco della città Rocchino Moliere e un lavoratore della Pernigotti. Sindaco Moliere, Novi Ligure si aspetta tanto da questo incontro di oggi del presidente del Consiglio con la proprietà, si spera, della Pernigotti. Ci aspettiamo molto, però io credo che la prima risposta che la proprietà turca deve dare è quella sulla cassa integrazione per ristrutturazione, cosa che noi abbiamo chiesto, i sindacati, i lavoratori, noi, la regione abbiamo chiesto al tavolo del ministero e quindi questa è la prima risposta. Poi naturalmente la proprietà turca deve dire alla presidenza del Consiglio che cosa pensa di fare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi perché ha visto che c'è una reazione molto forte alla loro posizione di cessare l'attività. Noi questo naturalmente tutti quanti noi ci opponiamo e spero che ci sia da parte loro una disponibilità a ragionare e a dialogare, cosa che finora non c'è stata. Intanto continua l'assemblea con presidio permanente fuori dallo stabilimento Pernigotti di Novi Ligure. A loro abbiamo chiesto che cosa ci si aspetta da questo incontro. Che si risolva qualcosa, che decidano qualcosa di positivo, che arrivi questo turco e che decida finalmente cosa vuole fare, se riusciamo a toglierci sto marchio, questo ci aspettiamo. Voi siete in assemblea permanente quindi? Permanente, sì, dal 7. Quella è una tenda che vi appartiene? Sì, c'è la messa il comune che nel momento in cui non potremo più stare qua andremo di là. Alla messa il comune? La messa il comune, sì. Il sindaco ce l'ha portata, ce l'ha fatta montare. Quella è l'ultima spiaggia, è proprio l'ultima. Il corpo senza vita di un uomo è stato notato da alcuni residenti di Gassino nei pressi di Chivasso che questa mattina attorno alle 7 hanno chiamato i soccorsi informandoli che c'era un uomo per terra lungo il ciglio della strada sul posto i medici del 118 che altro non hanno potuto fare che decretare il decesso di Vittorio Barosso, 89 anni pensionato del posto. Secondo i primi accertamenti l'89enne potrebbe essere stato investito da un'auto pirata mentre stava attraversando a piedi la provinciale. I carabinieri di Chivasso coordinati dal PM di Ivrea, Daniela e Iavarone stanno visionando le immagini delle telecamere installate nella zona. Una in particolare dovrebbe far luce su quello che è successo al pensionato. Da coltivazione di piante e fiori a discarica abusiva. È successo a Castellazzo Bormida dove questa mattina i carabinieri del NOE insieme a quelli della locale stazione hanno sequestrato 70 metri cubi di rifiuti per lo più di materia plastica accatastati lungo i 20.000 metri quadrati di quella che un tempo era una serra i cui titolari anni fa sono stati sottoposti a una procedura di fallimento. I rifiuti erano stoccati in cubi imballati dell'altezza di quasi 2 metri. Tutta l'area è stata messa sotto sequestro a disposizione dell'autorità giudiziaria di Alessandria mentre i proprietari dei terreni dovranno rispondere dei reati ambientali di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi e di deposito incontrollato. Sono oltre 90.000 all'anno le chiamate fatte alla centrale del 118 di Alessandria. Notte e giorno sono al lavoro una cinquantina di medici e un centinaio di infermieri. Alessandria è fra l'altro una delle basi dell'elisoccorso. Franco Capone. Il 118 di Alessandria è una delle sedi che insieme a Torino, Cuneo e Borgosesia ha una base operativa per il servizio di elisoccorso e che riesce a smaltire con efficienza dai 150 alle 200 chiamate giornaliere. Lo ha detto il direttore del servizio territoriale interprovinciale di emergenza di Alessandria, Giovanni Lombardi durante l'incontro con i giornalisti dove fra l'altro si è parlato di una regolamentalizzazione dei rapporti con la stampa e soprattutto con le altre forze della Polizia di Stato, Carabinieri e Vigili del Fuoco. Un lavoro che non ha tregua e che lo scorso anno ha fatto registrare 87.125 interventi e quest'anno, ad oggi, sono state 67.995 interventi, di cui 51.000 con l'invio di mezzi di soccorso. Il servizio viene svolto con 13 ambulanze medicalizzate, con un medico ed un infermiero a bordo. Una sessantina le ambulanze di base con autista e soccorritore, altamente preparato per svolgere alcuni tipi di intervento con volontari di associazioni convenzionate. Il personale impiegato, 24 ore su 24, tra addetti alla centrale operativa, quelli a bordo delle ambulanze, un centinaio di infermieri e una cinquantina di medici. Ma, a sostenuto il direttore 118 di Alessandria, ne avremo bisogno almeno 10 in più. A bordo dell'elisoccorso sono presenti, ovviamente, oltre ai piloti, un anestesista rianimatore, un infermiere e un tecnico di soccorso alpino. Con l'attivazione del 112, che ingloba tutti gli altri numeri, 113, 115 e 118, un operatore risponde alla chiamata di emergenza, attivando, nello stesso tempo, un cervellone che, fra le altre cose, mette in moto l'indicazione precisa da dove arriva la teleponata. Dopo aver accertato la tipologia dell'intervento, inoltre ha la scheda al reparto di intervento più vicino, quello più idoneo all'emergenza sanitaria e, da quel momento, gli angeli del soccorso sono già in volo. Il sindaco di Silvano Dorba, Ivana Maggiolino, dopo un lungo iter, ha finalmente ottenuto gli attesi finanziamenti per il restyling del ponte che collega le provinciali 155 e 175. Maurizio Silva Estri l'ha incontrata. Allora, sentiamo i suoi tre minuti con... Allora, oggi questi tre minuti li dedichiamo a Silvano Dorba. Sono felicissima di essere qui con la sindaca Ivana Maggiolino perché stiamo parlando di una cosa veramente, diciamo sempre cose brutte, questa cosa è molto bella. Si parla del ponte, del ponte che collega? Che collega le due provinciali, quella 155, diciamo la nostra circonvalazione, con la 175 che la strada provinciale è quella, diciamo, di Rocca, Alessandria. Ecco, vi ricordate che il ponte è stato chiuso, poi l'hanno diviso per careggiata, adesso finalmente è aperto, però abbiamo una bella notizia. Qual è? Certo, la bella notizia è quella che finalmente il contributo, il finanziamento che era stato richiesto per poter mettere in sicurezza questa struttura è stato concesso e infatti ci è arrivata la comunicazione direttamente dalla regione che fa da tramite al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quindi questo contributo è quello che praticamente serve per mettere in sicurezza questa struttura e dare poi la possibilità, la viabilità di essere naturalmente più confacente a quello che è il suo ruolo anche rispetto a tutte le dinamiche che si sono sviluppate nel tempo con la chiusura, insomma, con la gente che si lamentava, però insomma, era una questione era ed è una questione di sicurezza, visto anche le ultime, purtroppo, le cose che stanno sono successe e che purtroppo non è detto che non succedano ancora è vero, però c'è da dire anche che voi dovete aggiungere, mettere un pezzo anche di vostro dal Comune perché, insomma, la spesa è molto forte. Il progetto è di 430 mila euro, quindi il progetto che era stato proposto come interventi e quindi il Comune dovrà contribuire per 50 mila euro e questi 50 mila euro saranno praticamente utilizzati, cioè deliberati in Consiglio Comunale con l'avanzo, utilizzando l'avanzo di amministrazione. Ecco, Ivana, quando inizieranno i lavori? Quando inizieranno i lavori non lo sappiamo ancora di preciso perché c'è tutto un itere procedimentale speriamo per aprile, per aprile, speriamo che per aprile non sono, sì, esattamente, esattamente. Allora, grazie Ivana, questa è una bellissima notizia, con voi ci vediamo i prossimi termini e vi tratteremo sempre informati per le varie evoluzioni. Grazie ancora. Anche il Torino Film Festival ricorda Bernardo Bertolucci, considerato l'ultimo grande maestro del Novecento a farlo, è la direttrice Emanuela Martini che sull'ANSA ha dichiarato un visionario, un intellettuale e soprattutto un sognatore. Bernardo Bertolucci dopo la rivoluzione ha fatto il cinema come non immaginavamo più di farlo, più grande della vita e per questo capace di restituirci tutta la vita e la storia e la memoria e il futuro nella loro profondità. In omaggio al regista il Lettorino Film Festival prietterà un breve montaggio e dedicherà a lui la giornata di domenica. Bertolucci, ha proseguito la Martini, ha raccontato tragedie di ideali che si frantumano, di uomini e donne che si perdono in rapporti impossibili, a freschi magnifici del nostro passato recente bruciante, di imperatori e Buddha e ragazzi e ragazze in cerca di identità. Ragazzi e ragazze che sognano a Parigi come altrove la loro vita, un'altra vita migliore. Meno di 20 film in quasi 50 anni di carriera sono troppo pochi per uno dei più grandi registi del mondo. Bene, tra poco con Fabrizio Mattana, commenti e risultati della domenica calcistica nella pagina sportiva, poi le previsioni del tempo e la rubrica delle notizie utili. Grazie come sempre per averci seguito, arrivederci.